Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sabato 26 ottobre 2013, sabato 26 ottobre 2013. Oggi sabato 26 ottobre 2013, sabato 26 ottobre 2013 per noi dell'Occidente cristiano, ma per il mondo arabo la data è diversa, ma non ha importanza. Parliamo di noi, sabato 26 ottobre 2013, le brave donne dell'Arabia Saudita, le brave donne saudite dovevano fare una manifestazione di protesta contro il governo dell'Arabia Saudita, il quale governo dell'Arabia Saudita non consente alle donne di guidare le automobili. In Arabia Saudita si chiedono perché mai le nostre donne, le nostre mogli, le nostre figlie, e le nostre mamme vogliono guidare le automobili. Ci siamo noi uomini che le portiamo dappertutto, le portiamo all'università, le portiamo a fare la spesa, le portiamo dalla ginecologa, le portiamo dappertutto. Cosa vogliono prendere la patente, cosa vogliono guidare le automobili a fare? Non capiscono quale sia il motivo per cui le donne saudite, cioè dell'Arabia Saudita, vogliono anche loro prendere la patente e guidare le automobili. E non capiscono. Ma che bisogno c'è di guidare le automobili? Il fatto è che anche in Arabia Saudita si conosce da tanto tempo qual è la funzione dello sperma e anche in Arabia Saudita si sa come nascono i bambini. Come nascono i bambini. Per cui vale quello che io ho sempre detto in tanti miei video relativamente ai rapporti che intercorrono tra uomo e donna o meglio ancora tra marito e moglie. Sono tanto servizievoli i mariti in Arabia Saudita e per cui allora c'è semplicemente da dire che per le belle, brave, buone donne saudite, donne dell'Arabia Saudita che allo stato attuale allo stato attuale, cioè senza patente, senza automobile e loro poverete possono limitarsi a mettere le corna al marito in un ambito molto ristretto non avendo la possibilità di allontanarsi con l'automobile sono costrette a mettere le corna al marito in un ambito pescoso molto ristretto possono farlo col fratello col fratello del proprio marito cioè col cognato o con i fratelli del proprio marito con i cognati oppure lo possono fare con il marito di una loro sorella il marito di una loro sorella d'accordo? l'ambito è molto ristretto molto ristretto non avendo la patente non potendo guidare le automobili sono costrette come si suol dire a lavare i panni sporchi in famiglia loro invece non vorrebbero non vorrebbero fare queste cose nell'arco della parentela vorrebbero farle lontano lontano al di fuori del stretto ambito della famiglia familiare della parentela farle un po' più lontane e allora bisognerebbe spiegarglielo al governo dell'Arabia Saudita che il male minore è che si dia anche alle donne dell'Arabia Saudita il permesso di prendere le patenti e di guidare le automobili perché così i panni sporchi li vanno a lavare lontano più lontano non sono più costrette a fare le cose in famiglia vanno più lontano bisognerebbe spiegargli queste cose perché non è che che il fatto che manchi la patente che manchi l'automobile mette le donne nelle condizioni di non farle certe cose le fanno le fanno in un ambito molto più distretto bisognerebbe spiegargli queste cose d'accordo? vabbè cari io vi metterò nel riassunto di questo video il link di un mio recentissimo video intitolato l'arte del tradimento grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti